Il giorno fa, il 21 novembre, quindi è già incardinato, è il numero 2739, che recepisce in larga misura una mia proposta di legge già approvata in questo ramo alla Camera nella passata legislatura, in sede legislativa nella Commissione Cultura, peraltro con una condivisione larghissima e che metteva mano al riordino della professione giornalistica e questa nuova proposta recupera quell'impianto ma recepisce anche gli elementi di novità che sono legati essenzialmente all'ingresso del nostro divamento della direttiva europea sulle professioni, che fra le altre cose traccia un percorso relativo alla formazione del giornalista. Con un'estrema operazione di sintesi, poi i colleghi hanno tutti la nostra proposta di legge, e chi non ce l'ha ne verrà fornito in mantenente. Questa proposta consta di alcuni punti fondamentali. I primi, come mi dicevo, sono legati all'impianto originario che praticamente disegna il percorso relativo ai nuovi requisiti per l'accesso alla prova di donità professionale, per diventare giornalista professionista, quindi laurea più pratica giornalistica, master, corsi biennali riconosciuti dall'ordine, eccetera. Ma tutto questo già è stato, credo, anche all'interno dell'ordine delle associazioni sindagali, largamente discorso in passato. Non c'è nulla di nuovo sotto questo profilo. Così pure per la posizione dei pubblicisti, che peraltro vengono, diciamo, secondo la nostra proposta, portati a realizzare anche un colloquio, quindi non è solo la certificazione, diciamo, dell'anziena regime. Naturalmente si prevede un articolo 3 delle norme transitorie. Gli elementi importanti sono legati ai contenuti dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6. L'articolo 4 parla della composizione dell'ordine. Noi abbiamo nell'ordine dei giornalisti un'antica anomalia che si spiegava con la legge Gonnella. Stiamo parlando di una legge, quella istitutiva dell'ordine, nel 1963, che faceva riferimento ad un universo professionale formato da non molte persone. Quindi l'indistinzione tra giornalista professionista e giornalista pubblicista all'interno di questo contesto, diciamo, era tollerabilissima. Oggi invece abbiamo un rapporto del tutto diverso. Siamo in un organo rappresentativo, quello del Consiglio nazionale, che vede una larghissima prevalenza di pubblicisti rispetto ai giornalisti professionisti. La qualcosa, naturalmente, non ha nessun elemento di offensività in sé, ma di fatto rende complicato il percorso professionale di chi sviluppa questa attività in chiave esclusiva, a differenza di chi eserce attività di giornalista, e parlo a questo punto del pubblicista, in una dimensione di coesistenza con un'attività principale da cui trae la propria lucupletazione. Quindi si riequilibra e si stabilisce che un ordine che oggi è pletorico, superi 130 consiglieri, venga portato a 70, con una prevalenza di consiglieri professionisti rispetto ai pubblicisti. Articolo 5. C'è la previsione del giurì. Il giurì, secondo la nostra visione, composto da cinque membri, due espressioni della G.com, due dell'ordine giornalista, un magistrato della Corte d'Appello, che dovrebbe essere presente presso tutte le Corte d'Appello, e lo strumento attraverso il quale cercheremmo di evitare le querele temerarie, insomma, evitare la giurisdizionalizzazione di una lite, di un conflitto, di una situazione di contrasto tra giornalista e lettore o comunque cittadino. Quindi utilizzando questo strumento, peraltro molto qualificato, si vuole evitare di inflazionare, insomma, già i nostri tribunali sono abbastanza carichi di più, ecco, si vuole evitare una di concorrere all'inflazione, anche dal punto di vista delle liti con i giornalisti. Infine, ne parlavamo prima, la formazione continua. Allora, qui io vorrei dire una cosa fondamentale. Noi stiamo, come sapete, nel 2005 c'è stata una direttiva europea che ha disegnato il profilo del professionista, di tutti i professionisti, l'avvocato, del commercialista, del medico, tutti. Qual è il punto? Come voi tutti, come noi tutti, consentitevi, sappiamo, cosa diversa è esercitare l'attività professionale da avvocato, quindi avere i clienti, o da commercialista avere i clienti, cosa diversa è avere esercitare l'attività professionale da giornalista, non è rivolta all'attività ad una clientela, ma dovrebbe essere a tutela dell'informazione corretta, della verità, e dunque rivolta a tutti i cittadini. Quindi è evidente che l'attività professionale giornalista riceve dal nostro ordinamento un'attenzione privilegiata, così come quella dell'avvocato, così come quella del medico, sono le tre uniche attività professionali che hanno un riconoscimento costituzionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che bisogna guardare a quelle che sono le peculiarità, le specificità di questa nostra attività. E allora è obbligatorio recepire l'impianto della direttiva, ma è anche necessario e opportuno declinarlo in modo adeguato, compatibile con l'impianto professionale. Devo dire che qui una traccia buona, positiva, è stata fornita dagli avvocati, che hanno fatto addirittura una legge, al 247 del 2012, di riforma della professione forense, che ha anche un capitolo relativo alla disciplina della formazione. Allora, tornando alla nostra proposta di legge, dopo questa premessa, diremo che veniamo a stabilire i principi, che sono quelli evidentemente recepiti anche dalla legge italiana, il decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito in legge 148, sempre del 2011, che recepiva a sua volta la direttiva europea di cui abbiamo parlato. Ma stabiliamo anche un quadro di essenzioni. Faccio per dire, tanto cose abbastanza banali, i giornalisti sospesi dall'esercizio, diventa una cosa abbastanza, come dire, controversa, sono sospesi, non possono esercitare, però vanno a fare la formazione. Ma immaginiamo, abbiamo guardato all'impianto degli avvocati, un'esenzione dopo vent'anni di iscrizione all'albo, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, cioè pensionati che continuino a fare formazione, è abbastanza bislacco. Poi anche i componenti degli organi di rappresentanza, i componenti dei consigli nazionali, regionali, chi esercita un ruolo nei consigli di disciplina, i rappresentanti nazionali di categoria, ovviamente con riferimento alle posizioni di rappresentanza più alte. Ma il punto fondamentale, lo diciamo nel comma 3 di questo articolo 6, sulla formazione continua, è l'oggetto della formazione. Di che cosa stiamo parlando? È evidente, l'ordine professionale deve garantire che chi esercita l'attività di giornalista professionista o anche di giornalista pubblicista, lo faccia guardando essenzialmente ai profili di attendibilità rispetto al suo ruolo, dunque ai profili legati alla deontologia professionale. Essenzialmente è questo. Se io giornalista professionista voglio diventare esperto di relazioni internazionali e capire che cosa succede in Indocina, vado a fare un master o comunque un'attività professionale, me la vado a costruire, una formazione la costruisco in quella direzione e così via. Quello che invece mi deve essere fornito è tutto ciò che ha a che fare con i profili o almeno prevalentemente a che fare con i profili della deontologia professionale, anche attraverso strumenti che sono adottati dalle altre categorie professionali che sono la formazione a distanza, l'autoformazione, sono strumenti abbastanza utili sotto questo profilo. Altro principio fondamentale, senza fini di lucro. Chi fa questa attività la deve fare in una dimensione che non concepisca i profili commerciali, non si sta facendo commercio e non può avere dunque fini di lucro. Quindi va somministrata in questa maniera. Infine c'è un profilo che riguarda anche le sanzioni, che devono essere sì proporzionate, ma devono essere fissate. Cioè ci deve essere un criterio. Non è che l'ordine del Lazio e l'ordine della Puglia di fronte a uguali situazioni hanno due tipi di sanzioni diverse. Non ci sono criteri sotto questo profilo. Allora noi proviamo ad immaginare un criterio che sia nel range che va dall'avvertimento alla censura. Non mi pare che possa esserci qualcosa di diverso, qualcosa di più deflagrante. Io mi fermerei qui per quanto riguarda il contenuto di questa nostra proposta di legge. Devo dire che ne sento la necessità. Ne sento la necessità da giornalista, da giornalista professionista, che peraltro è in una condizione di strana operatività. io sarei tra quelli, io faccio il professor universitario, nel momento nel quale divento deputato sono obbligatoriamente messo in aspettativa. Dovrei avere una situazione analoga nel momento nel quale, da giornalista professionista, vedo sospesa la mia attività. se io scrivo un articolo lo firmo Pino Pisicchio, deputato ed esercito questo intervento nel mondo dell'informazione, non in quanto giornalista ma in quanto deputato. È giusto che sia così. Ecco, queste indeterminatezze che galleggiano nel nostro ordinamento, nel nostro sistema ordinistico, andrebbero, sì, ho finito, quindi adesso immediatamente ti do la parola, andrebbero, andrebbero, diciamo, in qualche modo chiarite. Tra le altre esimente, è evidente, c'è un esimente che riguarda i parlamentari. Ho finito, sono a vostra disposizione. Prego. Infatti, questo è... Quando parlo delle anomalie, ero comunque inaspettativa da professore universitari, comunque quando parlo delle anomalie, io parlo di questo, io parlo di questo, sono tutte anomalie che vanno... Sì, sì, concordo, concordo, concordo con te. E' un caso, è un caso molto chiaro, di una professione che può essere esercitata in una dimensione pubblicistica, non in una dimensione professionale. Intanto c'era quella possibilità perché in quel periodo non ero, non facevo il professore. Adesso sì. Allora, questo è un giurista. Se tu vi ricordi, non più per cui il vostro sito interno, in questo punto, ha previsto l'accesso alla professione, praticamente, a tutti, anche a quelli che non avevano... Grazie. 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 Allora, io posso rispondere subito all'amico custodio, ma se magari raccogliamo qualche altro intervento, se c'è, faccio una serie di risposte, invece che una sola. Io volevo fare una domanda, non so se è impropria per quanto riguarda la modifica alla legge con ella. Allora, uno dei problemi dell'accesso alla professione giornalistica è anche quello della prova d'esame. Ritiene sbagliato che a decidere se passare un esame siano dei giornalisti che esaminano proprio dei giornalisti. Mi sembra un unicum che non esiste da nessuna parte. Grazie. 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 Ruocco. Lo ho seminato rispetto a questa proposta di legge. Nel senso che negli ultimi anni, negli ultimi sei anni, abbiamo assistito, come dire, a una mutazione genetica. Nel senso che c'è una crisi fortissima dell'informazione, della stampa, che si è ripercorsa sulla pubblicità, sulle vendite, sull'apprezzamento, sull'organico, sull'occupazione dei giornalisti. Gli editori, quelli che in maniera, come dire, all'italiana, ecco, gli editori all'italiana, spuri, che fanno informazioni, in genere lo fanno con altri fini industriali e finanziari, e mi sembra che ci sia in valsa una tendenza di fare giornali senza giornalisti. Ad esempio, mi spiego un po' meglio. Si cerca, oltre che di colpire l'occupazione pesantemente in termini sostanziali, in termini economici, in termini normativi, di precarizzazione, ma anche quella, diciamo, a livello più alto di qualità. Ad esempio, una volta i commenti editoriali erano affidati ai giornalisti, adesso i commenti editoriali sono sempre di più affidati a esperti, a professori, eccetera, eccetera. Grazie. Allora, ci sono altre domande? Bene. Se non ce ne sono, io faccio qualche rapida considerazione sulle cose che sono state dette. Voglio dire all'amico custodero che in realtà questa proposta di legge è una proposta di legge, lo dicevo in apertura, che ripropone il punto d'arrivo della passata legislatura. Cioè, noi nella passata legislatura abbiamo approvato alla Camera dei Deputati un impianto, forse sarà, diciamo, passato inosservato, ma un impianto che è quello che prevede lo schema della laurea, che prevede quel percorso che vi ho prima evocato in termini di rapidità perché immaginavo che in qualche modo fosse stato già soppesato e considerato. Evidente, evidente, amico custodero, esiste una posizione di rimente radicale su questa cosa. O manteniamo in piedi le strutture ordinistiche oppure la liberalizzazione diventa totale. Chi esercita l'opzione sulla liberalizzazione totale è assolutamente legittima. Esistono anche in questo Parlamento posizioni di questo tipo che peraltro io rispetto. È evidente che smonta tutto questo. non considera utile uno schema di quel genere. Noi abbiamo fatto un'opzione e nella passata legislatura venne approvata, ricordo che c'erano su questa proposta di legge il primo firmatario ero io, ma c'era il recepimento di un largo dibattito che si era sviluppato all'interno dell'Ordine dei giornalisti, ma anche all'interno del sindacato, anche all'interno di tutti coloro i quali esercitavano con proiezioni di rappresentanza l'attività professionale di giornalista. recepivamo questa impostazione e tutti i gruppi politici, tutti i gruppi parlamentari che avessero una presenza di giornalista l'hanno firmata. Questo è avvenuto nella passata legislatura. si è bloccata la Camera, nel senso che la Camera l'ha approvata, il Senato poi non ce la fece perché si chiude la legislatura e quindi abbiamo ripreso quell'impianto e l'abbiamo portato avanti. L'elemento di novità è dato, come ricordavo per questo, immaginavo che qualche approfondimento sul tema della formazione mi fosse richiesto, ma mi rendo conto che è molto chiaro quello che ho detto, sono contento, vuol dire che sono stato sufficientemente espressivo nel mio dire e quindi il di più rappresentato da questo perché è intervenuto nel frattempo il recepimento della direttiva europea sulle professioni. Per quanto riguarda invece il... Diciamo, Angelo Polimeno faceva riferimento quindi al soppesamento e al valore del titolo di studio in un contesto nel quale evidentemente noi siamo anche, in senso più generale, ma complessivamente meno dotati di... In Europa siamo... Gli italiani sono i meno strutturati da un punto di vista del titolo di studio. Io ho fatto della laurea. Io ho fatto una ricerca recentemente che riguarda l'universo parlamentare ed è venuta fuori una cosa piuttosto simpatica o se volete anche inquietante. Nel 1948, parlo di laureati, i parlamentari laureati erano il 91%, nel 2013 i parlamentari laureati sono diventati il 68,4%. Allora, forse, e ritorno a quelle sottolineature che venivano fatte prima con riferimento al titolo di studio, forse, diciamo, dobbiamo considerare la laurea in master, insomma, un po' il minimo sindacale. Noi siamo in Europa, col 7,5% dei laureati, i più bassi, i più bassi, tra i paesi, diciamo, tra i paesi cosiddetti avanzati. a Cristina Cosentino, voglio dire, sì, certo, forse è un'idea, un suggerimento da recuperare, quello dell'albo unico che è una cosa intermedia tra la liberalizzazione abolendo l'ordine e una costruzione, diciamo, di uno spazio intermedio. intermedio. Io mi auspicherei di mettere in moto un dibattito, perché questo è l'intento della mia proposta, di mettere in moto un dibattito nelle istituzioni, ma anche nel mondo della professione, per trovare un punto di caduta che possa essere comunque un punto di caduta con progetto di rinnovamento, perché siamo di fronte a una professione che quest'anno fa i 51 anni. Cioè, siamo abituati a considerare un cinquantenne una persona giovane, perché gli zoccoli generazionali adesso vanno all'indietro piuttosto che avanti, però, insomma, con una velocità, noi siamo in una stagione in cui si cambia verso, con una velocità straordinaria, i cicli sono brevi, forse sarebbe il caso di pensarci un attimo. A Rodolfo, infine, a Rodolfo Ruocco, voglio dire che la sua preoccupazione, io la condivido, no, c'era stata anche una domanda sull'esame, la sua preoccupazione la condivido sullo svuotamento, in sostanza, della professione, ma, ahimè, questo mette in moto percorsi e riflessioni, diciamo, più larghe di quelle che possono essere contenute in una proposta di riforma dell'ordine, e riguardano un po' anche il ruolo dell'informazione in questo Paese, in una stagione in cui la mediatizzazione della politica è totale, e con un arretramento dell'informazione. Dobbiamo domandarci, per esempio, dobbiamo farci qualche domanda sull'editore, insieme alla domanda sulla professione, e sulla sua indipendenza, sulla sua capacità di entrare nel mercato in modo adeguato. Si annuncia un grande dibattito, di qui a poco, sul ruolo, per esempio, dell'esecutivo, del governo, nell'editoria, qualche cosa accadrà, insomma, è un tema serio, un tema grande, un tema importante che va affrontato adeguatamente. L'esame giornalisti, l'esame per i professionisti, certo, in una dimensione di riordino globale... Io la domanda l'avevo fatta anche perché ho visto che nella sua proposta di legge ha mantenuto l'esame però per i pubblicisti. Sì. Allora io mi chiedevo, è giusto che dei giornalisti possano... No, ma il... chiedo scusa, il... diciamo il master, la laurea, eccetera, è comunque un percorso di accesso alla prova. Non è che io sono laureato, ho fatto e non devo fare più niente. No, comunque c'è l'accesso alla prova. Ecco, il pubblicista comunque è giusto che faccia anche il suo esame. No, ecco, per quanto riguarda la composizione della commissione è giusto che siano... Io tra l'altro, nell'esperienza, perché ho provato a fare anche altri lavori, mi sono imbattuto in altre commissioni, però non ho mai trovato, diciamo... Insomma, lei dice sostanzialmente che è una sopravvivenza corporativa, cioè le corporazioni che... Mi sembra, diciamo, assurdo che dei giornalisti... L'ordine professionale degli avvocati c'ha dentro avvocati nelle commissioni di esame, insieme con magistrati, ma c'ha dentro avvocati. Insomma, voglio dire, non è così eccentrico, eh. non è così eccentrico. Prego. Il praticantato rimane nell'impianto di transizione, c'è la norma di transizione. Di fatto, di fatto... Sì. 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 No, 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 no. No, no, no. Il 50% dell'attività che tu farai, svolgerai presso la scuola, presso l'università, presso la scuola di giornalismo, il 50% deve essere dedicato a pratica andato. Sì. No, 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 no. La laurea, la laurea è... La laurea... No, no, no. Tu devi comunque fare l'attività di praticantà. Tu la devi comunque fare, la devi fare. Questo è un percorso privilegiato, certo. Il di più rappresentato dalla laurea. Va bene. Mi pare che abbiamo... Abbiamo anche delle importanti visite dall'altro ramo del Parlamento. Salutiamo. Tossa Trovellesi. Bene. Grazie allora. Grazie per il vostro tempo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.